Ciao, sono Cristiano di Viaggiovero.com L'articolo di oggi chiude, per quanto riguarda il progetto volo, la parte relativa alle compagnie low cost, quelli a basso costo Anche se, a dir la verità, il prossimo articolo, forse anche due, riguarderanno sia i voli di linea come anticipazione, sia come premessa sui voli di linea, che come conclusione per quanto riguarda i voli a basso costo Valgono per entrambi Oggi comunque andremo a vedere come si può risparmiare ulteriormente sull'acquisto di servizi viaggio, tipo hotel, ostelli, noleggio auto, trasferimenti dall'aeroporto al centro città Utilizzando proprio i siti ufficiali delle compagnie low cost Gli siti che prenderemo maggiormente in considerazione sono come sempre EasyJet e Ryanair Non perché io sia fissato con queste due compagnie, ma perché sono due compagnie che hanno il bacino di utenza maggiore in Italia per quanto riguarda le vendite di voli low cost Quindi ti sarà comunque sempre più facile dover utilizzare uno di questi due vettori piuttosto che gli altri Andremo anche ad analizzare comunque uno o due altri siti di quelli visti nell'articolo precedente in cui trattavo le compagnie low cost al di fuori di Ryanair EasyJet A questo punto andiamo sulla pagina principale di Ryanair e i servizi accessori di cui ti dicevo li trovi proprio sotto il numero Ryanair in queste linguette Ad esempio hai il noleggio auto, io adesso non cliccherò su ogni linguetta per farti vedere per una questione di tempo Non voglio allungare troppo il video, ma sarai poi tu che man mano andrai a farti fare preventivi da uno o dall'altro sito per il servizio che ti interessa Per quanto riguarda il noleggio auto, Ryanair si appoggia alla Hertz Perché ti dico queste cose, cioè di provare almeno a farti fare preventivi tramite i siti ufficiali delle compagnie low cost Perché tramite i contratti fatti fra questa compagnia low cost e la compagnia del servizio Normalmente il prezzo, c'è comunque un'offerta, spesso addirittura a me è capitato di riuscire a pagare meno tramite il sito della compagnia low cost Rispetto al sito ufficiale che vende il servizio Quindi anche se io per il noleggio auto ti dico Hertz, tu prova a realizzare un preventivo sia sul sito ufficiale Hertz che tramite la pagina Ryanair di Hertz E vedrai che comunque in alcuni casi troverai una differenza Per quanto riguarda gli alberghi, Ryanair si appoggia a booking.com che conosciamo bene Lo trovi anche all'indirizzo www.viaggiovero.com slash booking Come lo vedi scritto in sovrimpressione Per quanto riguarda gli ostelli si appoggia alla nostra vecchia conoscenza hostelworld Che trovi all'indirizzo www.viaggiovero.com slash hostelworld Per quanto riguarda l'affitto vacanze andiamo a vedere a cosa si appoggia Ryanair Si appoggia a alwaysonvacation.co.uk Dal suffisso direi che è un sito inglese che affitta ville e appartamenti Nelle varie destinazioni proposte da Ryanair e anche di più Poi le assicurazioni per quanto riguarda i voli e i viaggi fatti con Ryanair Le crociere si appoggia alla nostra costa Per l'aeroport transfer Lo vedremo in un secondo tempo perché è un capitolo appena più lungo Un attimo chiudo il discorso linguette Poi torniamo ai trasporti fra aeroporto e centro città Abbiamo i voucher regalo Se tu vuoi chiaramente fare un regalo ma non è un servizio accessorio I camping and village, la Ryanair si appoggia al tour operator Che si chiama Alan Rogers Ed è un, dicono che si è esperto di campeggi dal 1968 Come vedi ha decine e decine di campeggi sparsi un po' in tutta Europa Tornando alla parte aeroport transfer la trovi sia cliccando su questa linguetta Che scorrendo la pagina principale Nei servizi di viaggio Come vedi hai lo Stenze Train L'Air Reus Airport Bus Visto poco tempo fa in un articolo dedicato su viaggiovero.com E anche i transfer privati per l'aeroporto Oppure con i bus Stesse cose le puoi raggiungere come ti dicevo dalla linguetta Quindi clicchi su Airport Transfer Vedi che qui in questa pagina di ricerca molto visiva Diciamo che è quella che si nota prima È perché ti offrono i trasporti privati Quelli più costosi Quindi io direi di, a meno che non siate in diverse persone Possiate dividere la spesa Direi di scartarlo a priori Se scorri la pagina Qui troverai il sito di Terravision Il link al sito di Terravision Con cui è convenzionato Ryanair Che è un gruppo privato di bus Che opera sulle maggiori città servite da Ryan E propone trasferimenti all'aeroporto centro città A prezzi low cost Poi hai qui il famoso Stansted Express Che è il treno che collega l'aeroporto di Stansted A Liverpool Street a Londra Che puoi acquistare tramite il sito Ryanair E te lo consiglio vivamente In quanto in questo caso ho provato sulla mia pelle Il costo è minore passando dal sito Ryanair Rispetto al sito ufficiale dello Stansted Express E qui elencato in questi airport transfer Trovi anche il Reus Airport Bus Che come detto abbiamo visto in un articolo Dedicato all'aeroporto di Reus Vicino a Barcellona E quindi ti rimando sul sito di Viaggio Vero All'articolo specifico Per informazioni Nel prossimo video andremo ad analizzare EasyJet e alcune delle altre compagnie low cost Operanti dall'Italia